Antonio Lorena, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia alla mezza terme, i rapporti del partito con i militanti, con la cittadinanza? Buonasera e grazie. I rapporti del partito sono ottimi, sia in città che nell'Interland, lo abbiamo anche dimostrato alle ultime elezioni europee, alla mezza abbiamo raggiunto un risultato enorme, il 25%, superiore a tante altre grandi città regionali. Siamo un partito in crescita, anche e soprattutto nella nostra città, siamo presenti, promuoviamo tante di queste iniziative e insieme al gruppo consigliare e al capogruppo Pietro Gallio, che al momento non c'è, portiamo avanti una politica a favore dei cittadini e di presenza costante sul territorio. Il nostro governo oggi, con la nostra Premier, Giorgia Meloni, sta dimostrando di essere vicina ai cittadini e alle imprese. Infatti negli ultimi mesi sono state approvate importanti riforme, giustizia, fisco. Il premierato non è stato approvato, ma è qualcosa del quale si parla insistentemente. Questo perché il governo vuole dare voce alle imprese e ai cittadini e i risultati sono tangibili anche se confrontiamo il tasso di crescita del PIL italiano degli ultimi mesi rispetto a quello europeo, siamo in controtendenza e superiamo anche altre grandi nazioni europee. Quindi siamo soddisfatti di come sta andando, siamo anche in crescita nei sondaggi a livello nazionale e quindi siamo contenti di continuare così in questo partito, con la militanza, vicini al nostro governo e alla nostra Premier, Giorgia Meloni, che è sempre vicina ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. Grazie.